benvenuti amici di mtb bdc passion il video che vi propongo oggi me lo avete chiesto in tanti era appunto da un po di tempo che volevo realizzarlo e sostanzialmente ci fa vedere come si misura il massimo consumo d'ossigeno e il lattato durante una prova da sforzo di valutazione funzionale ecco cominciamo col dire che il massimo consumo d'ossigeno se lo si vuole misurare richiede una misurazione diretta tutti i calcoli matematici misurazioni che vi offrono i computerini tramite misurazione della frequenza cardiaca del potenza tramite power meter lasciano il tempo che trovano quindi se si vuole misurare il vo2 max lo facciamo con un test dal laboratorio personalmente altre situazioni non voglio nemmeno sentirle non va usato il volgare metabolimetro che alcuni preparatori utilizzano perché il metabolimetro ha diversi limiti innanzitutto il campionamento perché l'ergospirometro che quello che usiamo noi medici dello sport campiona i valori respiro per respiro mentre i banali metabolimetri che hanno sì prezzi molto più bassi ma ovviamente hanno dei gravissimi limiti appunto il primo è il fatto che campionano i valori non respiro per respiro ma di solito ogni 15 20 secondi inoltre non ci consentono di misurare l'anide carbonica ma solo l'ossigeno consumato con una stima molto approssimativa il test ergospirometrico effettuato con un'apposita apparecchiatura e correttamente tarata al di là del consumo d'ossigeno con una stima assolutamente precisa ci dà anche tutta un'altra serie di altri valori per esempio la agitata cardiaca quanti in che percentuale si utilizzano lipidi e carboidrati in base a diversi carichi gli equivalenti ventilatori la soglia aerobica ventilatoria e così via ecco per quanto riguarda la preparazione bisogna prima ovviamente posizionare l'atleta sulla bike oppure se avete la possibilità di farlo su un rullo ovviamente si parla di rulli di qualità che abbiano una stima della potenza con margini di errori inferiore all'uno per cento senso farli altrimenti no vedo ancora preparatori che usano vecchi rulli tipo lo spin trainer tecnogym che aveva margini di errore elevatissimi quindi bisogna usare prodotti moderni smart che consentano di lavorare in un certo modo comunque dopo che io ho posizionato il mio atleta o sulla bike o sulla propria bici se preferisco effettuare il test sul rullo ebbene lasciarlo qualche minuto ad abituarsi a respirare nella maschera perché ad alcuni soggetti può dare fastidio a me personalmente no ma indubbiamente a qualche atleta crea problema posso oltre a misurare i parametri rilevabili con l'ergospirometria utilizzare anche il prelievo del lattato in modo tale da ricavare ancora più parametri specialmente se sto valutando un atleta di un certo tipo infatti diciamo col test ergo spirometrico posso comunque vedere tramite l'andamento della linea carbonica e del quoziente respiratorio quando viene innescato il metabolismo di quando arriva un carico in cui il lattato prodotto diventa più di quello smaltito però chiaramente non posso conoscere il reale valore del lattato quindi se io abbino misurazione del lattato a test ergo spirometrico ho sicuramente un quadro più completo del mio atleta e prima cosa vedete l'atleta viene posizionato viene messa la maschera si valuta se l'altezza è corretta quindi ecco qui siamo ancora in fase di preparazione ovviamente oltre ai parametri metabolici dobbiamo valutare anche quelli cardiologici perché non è detto che l'atleta che ci troviamo di fronte non abbia problemi anche cardiovascolari e quindi oltre onde evitare di trovarci poi con dei problemi è bene monitorare anche il tracciato letto cardiografico e in questo caso anche la pressione ecco prima della prova come abbiamo detto si fa una misurazione basale del lattato intanto che l'atleta si abitua e successivamente a questo viene iniziata la prova ecco vedete qui meglio bucare il lobo auricolare che è meno doloroso rispetto al dito viene effettuata la misurazione si asciuga e poi si può partire con il test vero e proprio una volta è cominciato lo sforzo vero e proprio l'atleta comincia a pedalare a carichi via via crescenti ecco ovviamente il protocollo deve essere adeguato al livello dell'atleta quindi se sto testando un amatore di livello ricreativo difficilmente potrà arrivarmi sopra i 300 watt mentre se sto testando un atleta di livello può arrivare anche a 600 watt pertanto il test non deve durare né troppo né troppo poco e il salto fra un gradino e l'altro quindi cioè l'incremento di potenza anche lì deve essere adeguato al livello dell'atleta che sto testando ecco abbiamo già anticipato prima che durante il test viene monitorato innanzitutto il parametro cardiologico perché dobbiamo lavorare in sicurezza quindi ci interessa vedere la frequenza cardiaca in particolare quando siamo verso le fasi finali dello sforzo per vedere che l'atleta non stia oggettivamente spingendo al di là delle sue possibilità va monitorata la pressione arteriosa perché qualora venissero raggiunti dei livelli troppo alti o la pressione crescesse troppo fra uno step e l'altro per motivi di sicurezza il test va interrotto e soprattutto è importante monitorare eventuali alterazioni del tracciato elettro cardiografico oltre a questo monitoriamo i parametri respiratori quindi principalmente la ventilazione la produzione dell'anide carbonica il consumo d'ossigeno e gli equivalenti respiratori oltre a questi dicevamo anche tutti i parametri metabolici quindi soprattutto il quoziente respiratorio che è fondamentale per valutare a che livello io ho la soglia anaerobica dell'atleta che sto testando e all'utilizzo dei substrati in particolare di lipidi e carboidrati in base ai diversi carichi ecco come dicevamo io preferisco usare due computer diversi perché altrimenti diventa un po difficile monitorare sia la parte cardiologica che respiratoria e anche metabolica e così abbiamo un quadro in cui riusciamo ad agire in totale sicurezza ecco vediamo qui come via via respiro per respiro e vengono aggiunti tutti i miei valori mentre l'atleta sta pedalando e contemporaneamente si valuta anche la parte prettamente cardiologica per vedere che non compaia qualche problema grazie a tutti 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 grazie a tutti